Pulizia delle spiagge a Marina di Alberese, una iniziativa portata avanti dalle Gambiente ormai da anni che vede coinvolte anche le scuole sul fronte della sensibilizzazione ai bambini. Sì, il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le giovani e generazioni sull'incauto e abbandono dei rifiuti che viene fatto sia in mare sia sulla terra e che poi comporta un accumulo enorme lungo le spiagge. Ci sono 250 siti che vengono ripuliti oggi qui in Italia e ce ne sono altrettanti in tutto il Mediterraneo e il Parco della Maremma diventa il cuore di questa iniziativa di carattere nazionale e internazionale, quindi assume un aspetto ancora maggiore a livello di area protetta. Pensiamo che ogni anno 8 milioni di tonnellate di rifiuti vengono abbandonati in mare. L'80% di questi rifiuti sono plastica. Noi abbiamo una quantità enorme di plastica che si accumula, dobbiamo intervenire. Nel 2050 ci sarà più plastica che pesci. Quanti sono i bambini coinvolti? Abbiamo coinvolto circa 100 ragazzi che sono qui e poi ci sono tanti volontari per dare un segnale di azione concreta, diretta, di protagonismo. I turisti che comunque qui vengono hanno la percezione netta di essere all'interno di un parco e quindi eventualmente il materiale, i rifiuti, sono plastica, vengono fondamentalmente portati nelle mareggiade autunnali e invernali. Quindi queste iniziative sono fondamentali perché manualmente ci consentono di operare la pulizia. Devo dire poi proprio perché sempre di più ormai si sta chiudendo questo circolo virtuoso tra la conservazione e la tutela con la promozione e l'economia sostenibile, il fatto di mantenere inalterato le bellezze paesaggistiche e naturali sono un elemento di forte trazione per lo sviluppo economico. Quindi sono le aziende agricole e gli agriturismi proprio il primo soggetto di vera tutela e di mantenimento di una situazione paesaggistica, ambientale e territoriale che è quella che caratterizza il parco.